Buongiorno a chi è in sala, buongiorno a chi come ormai ci siamo abituati ci segue sui computer e sui telefonini. Ci siamo, l'abbiamo voluto strenuamente, non contro la ragionevolezza di poterlo fare all'interno delle norme di sicurezza che la contingenza attuale ci costringe ad applicare, ma l'abbiamo voluto senza dimenticare tutto quello che il nostro Paese e il mondo intero ha passato, senza dimenticare le vittime del Covid, senza dimenticare le gravi conseguenze economiche che tutti i sottori stanno affrontando, compreso quello dello spettacolo, quello del cinema, dello spettacolo del vivo, della cultura in generale, ma abbiamo da sempre voluto che se le condizioni lo avessero permesso non avremmo rinunciato alla mostra internazionale d'arte cinematografica in presenza. Una mostra diversa, come il direttore Barbera vi ha già più volte spiegato e detto, una mostra che è costata dei sacrifici in termini di selezione, una mostra internazionale dove la selezione, come vedrete nell'esposizione del direttore, non ha rinunciato né alla qualità né al numero dei film della competizione, della selezione ufficiale e di orizzonti. Pensiamo che sia un segnale importante, lo vediamo dalle aspettative anche dall'estero. Io credo che al di là del fatto di essere un segnale di ripresa, come ci auguriamo, e un segnale che possa non conoscere altri stop, sia importante perché diventa un patrimonio a disposizione di tutti quelli che verranno dopo di noi. Sarà anche un laboratorio, sarà veramente una sperimentazione sul campo di come si può affrontare un evento così importante che, seppur ridotto nei numeri, conoscerà delle presenze significative. Abbiamo fin dall'inizio collaborato con tutte le istituzioni, sia centrali che locali. È stato fatto un tavolo per il protocollo anti-Covid. Non mi dilungherò nell'elenco delle misure che sono state adottate, ci sono in cartella stampa, ma crediamo che quello che abbiamo organizzato e che stiamo limando metta tutti coloro che partecipano alla mostra, da protagonisti perché rappresentano i film, l'industria, ma anche coloro che verranno per vederli, nella sicurezza più sicura che possiamo offrire. Ci saranno dei varchi, dei varchi per l'accesso, chiamiamolo così, alla zona rossa nei quali saranno espletate le misure principali, come rilevamento della temperatura. Non ci saranno biglietterie fisiche da acquistare i biglietti, tutto si svolge online. Ci sarà il distanziamento previsto, voglio dare un dettaglio semplice, ma per semplificare e accelerare anche gli accessi. Non terremo conto della possibilità dei congiunti di stare assieme, ci sarà sempre una sedia vuota fra due persone. Riteniamo che questo non penalizzi il piacere di vedere i film, ma consenta un accesso più rapido, controllato, le sedie sono numerate, le persone avranno dei biglietti numerati, quindi gli accessi saranno di più di quelli che normalmente ci sono per entrare nelle sale. Ci saranno delle proiezioni contemporanee in più sale. Abbiamo per la prima volta due arene allestite al Lido, con una capienza che ci aiuta ad aumentare il numero degli spettatori, una al Lido, di fianco al Palalido, al Patinodromo e una ai Giardini della Biennale. Quella dei Giardini della Biennale è già in funzione perché stiamo proponendo una selezione di classici. Voi sapete che non sono i classici della sezione che sarebbe stata presentata a Venezia, che viene invece mostrata a Bologna, ma sono una serie di titoli che la Biennale ha comunque deciso di presentare, che sono presentati anche dai protagonisti del restauro oppure che sono stati implicati in questi film. È già cominciata, la gente ci va e sembra contenta. Una giornalista americana mi ha chiesto se eravamo orgogliosi di essere i primi. No, non siamo orgogliosi di essere i primi. Avremmo voluto che ci fossero tutti gli altri festival, che non ci fosse soprattutto stato quello che è successo, ma siamo, diciamo, fra virgolette, soddisfatti di tutto quello che siamo riusciti a fare finora. Prima di tutto per la qualità dei film che i selezionatori e Barbera hanno fatto e secondo per quello che abbiamo potuto, come ho detto prima, organizzare per la sicurezza di chi ci sarà. È una cosa molto importante per noi che tutte le mostre della Biennale siano fatte in presenza. Rifiutiamo categoricamente il ricorso al 100% dell'online. L'abbiamo già detto, l'abbiamo detto per le mostre di architettura e di arte. Una dimostrazione è che non in sostituzione di architettura, ma come inizio di un nuovo percorso, abbiamo organizzato e prodotto, sotto la tutela, la sigla e l'organizzazione dell'archivio storico delle arti contemporanee, per la prima volta in 125 anni della storia della Biennale, una mostra nel padiglione centrale dei giardini curata da tutti e sei i direttori. Cinema, teatro, musica, danza, arte ed architettura. Perché questo? Perché pensiamo che la Biennale non sia fatta solo delle mostre che hanno una data di inizio e una data di fine. Le mostre sono il suo core business, rimarranno e diventeranno sempre e saranno sempre più importanti e condotte da direttori bravissimi, però al tempo stesso vogliamo che la Biennale si presenti come un unicum, che la Biennale sia la casa di queste arti, sia la casa a Venezia delle arti contemporanee, in un progetto di ricerca sulle arti contemporanee che non escluderà mai nessuna delle sei arti che presentiamo. Per questo questa mostra sarà l'inizio di questo percorso, per questo il cinema, che spesso si pensa sia autonomo della Biennale, con il suo glamour, con la sua importanza, col fatto di essere il festival più antico del mondo, si pensa che sia il Festival di Venezia. È il Festival di Venezia della Biennale di Venezia, quindi non è una diminuzione per chi lo dirige, anzi è un arricchimento. Vorrei ringraziare naturalmente tutto il team della Biennale, che da quando sono arrivato ho potuto verificare, composto di persone motivate e molto capaci. Vorrei naturalmente ringraziare il direttore Barbera e tutto il suo team di selezione e vorrei ringraziare con molta riconoscenza gli sponsor, naturalmente il Ministero dei beni e delle entità culturali per il fondamentale contributo alla mostra del cinema, la Regione Veneto, il Comune di Venezia e la Soppretendenza di Venezia, che danno un sostegno indispensabile. I main sponsor della 77esima mostra, Gégé Lecoutre, Campari, Armani Beauty, Mastercard, la Rai, main broadcaster della mostra, che quest'anno la sostiene in maniera ancora più attiva, articolata e completa che negli anni precedenti, Toyota Lexus e a questo punto venite alla mostra e speriamo che possiate godervela in sicurezza e con piacere. Grazie a tutti, do la parola al direttore Alberto Barbera. Grazie, grazie Presidente, buongiorno a chi ci ascolta o si è messo in contatto tramite i social e internet per sapere come sarà questa edizione eccezionale della 77esima mostra del cinema di Venezia. Intanto un saluto a Lorenzo Mattotti, vedete alle nostre spalle il manifesto di quest'anno, come sempre, come già lo scorso anno, è un fotogramma della sigla che Mattotti ha realizzato per noi nel 2019 e questi due trapezisti sono un'immagine un po' emblematica. Quest'anno abbiamo dovuto fare tutti un po' di esercizi al trapezio per condurre a compimento questa edizione della mostra. Faccio qualche breve considerazione prima di elencare tutti i film delle sezioni del festival. Il cuore della mostra, diciamo così, è salvo. È vero, sarà una mostra forse in scala un po' ridotta. Abbiamo rinunciato, abbiamo rinviato a tempi migliori la sezione sconfini. L'ospitalità di Venezia Classice a Bologna, un'occasione del cinema di Trovato, è stato un modo di salvare una sezione che altrimenti non avremmo potuto realizzare. Abbiamo ridotto un po', ma non di tantissimo il numero dei film che verranno ufficialmente invitati a Venezia. Il cuore, dicevo, della mostra però è salvo. Il concorso di Venezia 77, quello di Orizzonti, un'ampia selezione di film fuori concorso che include ovviamente anche i documentari, più i due film di Biennale College che i team hanno potuto, nonostante il lockdown, condurre a compimento. Altri due sono stati costretti a interrompere le lavorazioni e verranno quindi spostati, rinviati all'anno prossimo e verranno presentati a Venezia nel 2021. Arriviamo comunque a un totale di 62 film, più 15 cortometraggi, che verranno tutti proiettati nelle sale cinematografiche del Lido, a Venezia e a Mestre, incluse le due arene all'aperto di cui ha già parlato il Presidente. Seconda considerazione, il numero dei film italiani è analogo a quello dell'anno scorso, ma come avrete modo di verificare, e mi auguro che alla fine sarete tutti d'accordo con me, la selezione italiana è davvero di grande qualità. Un buon segno per il nostro cinema, che sta attraversando un momento felice, nonostante le interruzioni imposta dalla pandemia. Un periodo felice per la capacità di rinnovarsi e proporre narrazioni che sembrano volersi lasciare alle spalle i modelli più collaudati, ma anche un po' usurati del passato. Terza notazione, non sarà quindi un festival autarchico, perché il programma molto vario è composto da film che provengono da tutto il mondo, senza esclusione di aree geografiche, anche quelle che sono ancora sotto la minaccia del coronavirus. Sono più di 50 i paesi rappresentati dai film delle varie sezioni del festival. Anche quest'anno dunque Venezia non rinuncia a essere una vetrina della migliore produzione di cinema del mondo, compresi gli americani e alcuni film delle majors. Ultima osservazione prima di passare all'elenco dei film. Importante, credo. Tra tutti i film invitati, inviati alla selezione, la percentuale dei film diretti da donne è del 22,4%, quindi più o meno quella dello scorso anno, ancora piuttosto bassa, dobbiamo riconoscerlo. La percentuale invece dei film di donne invitate alla mostra sale al 28,1%, un 3,1% in più dell'anno scorso. Ma il dato più interessante riguarda il concorso principale di Venezia 77, dove il numero dei film a regia femminile è di 8 titoli su 18. Tutti ovviamente scelti esclusivamente in base a criteri di qualità, non certo per rispettare protocolli di genere, come abbiamo sempre fatto. È comunque un dato credo molto significativo che ci auguriamo si stabilizzi nell'ambito della produzione cinematografica e audiovisiva a livello internazionale. E ora veniamo all'elenco dei film della mostra delle cinema di Venezia 2020. Partendo da Biennale College Cinema, vi ho detto due film su quattro hanno dovuto rinviare la lavorazione, i due film invece completati che vedremo alla mostra sono un film spagnolo che si chiama El Art de Volver, credo che ci sia un film finlandese di Annalena Auru. Ci sarà nella sezione Venice VR Expanded anche il film in VR prodotto nell'ambito del Biennale College specifico dedicato a questa nuova forma di espressione artistica. Ne parleremo quando annuncieremo la selezione di film di Venice VR Expanded. Passiamo alla sezione fuori concorso, che comprende numerosi film, dieci di finzione, dieci di non fiction, quelli che un tempo si definivano con il termine di documentare che oggi appare un po' superato e che non vorremmo più usare. Partiamo da questi ultimi, i film di non fiction. Il primo film è, ecco questo è Vaillante, il film del Venice VR, il primo film in ordine alfabetico della sezione fuori concorso è Sporting Life di Abel Ferrara, un gradito ritorno a Venezia di un regista americano che da tempo si è trasferito a Roma, vive, lavora a Roma con la moglie e la figlia. Il film è stato girato quasi interamente a Berlino dove Ferrara era in concorso con il suo ultimo film Siberia. E' un documentario, una sorta di celebrazione della fiducia nel cinema, nella musica. Come sapete Ferrara ha anche una rock band che si esibisce a lungo nel film e nel sodalizio con Willem Dafoe, il suo attore feticcio, una sorta di alter ego, interprete di tutti gli ultimi suoi film. Un altro ritorno a Venezia è quello del premio Oscar Alex Gibney che in Crazy Not Insane ricostruisce l'appassionante avventura professionale di Dorothy Othno Lewis, la criminologa americana che ha passato la vita a indagare sulla mentalità dei serial killer, studiando per prima gli effetti di disturbi della personalità multipla e riuscendo poi a fare riconoscere questi, cioè i disturbi come tali anche dai tribunali americani. Devo dire che sono veramente impressionanti le registrazioni dell'epoca e dei colloqui che la psicologa ha avuto con i più famosi serial killer americani che cambiano personalità durante le sedute sotto ipnosi. Un altro film molto atteso è il documentario su Greta di Nathan Grossman, l'attesissimo lavoro del regista che ha seguito la giovane attivista svedese fin dalle sue prime apparizioni in pubblico sino a diventare la figura iconica più rappresentativa del movimento ecologista con un seguito mondiale senza precedenti. Ancora un gradito ritorno a Venezia, quello di Luca Guadagnino che in Salvatore, Shoemaker of Dreams, ricostruisce l'avventura umana e professionale del ciabattino irpino destinato a diventare il più famoso calzalaio di Hollywood e fondatore di una delle più conosciute e apprezzate case di moda italiane. Un documentario appassionante come un biopic spericolato e direi perfettamente riuscito. Final account di Luke Holland si aggiunge invece alla lunga lista di testimonianze sull'orocausto, riuscendo però ad essere intenso e originale anche là dove non sembra esserci più nulla di nuovo da raccontare su questa terribile tragedia del secolo scorso. La nota dolorosa è che l'autore di questo impressionante documento, un ebreo inglese che ha dedicato la vita di attore e regista alla ricostruzione degli orrori del nazismo, è mancato il 20 giugno di quest'anno all'età di 71 anni. Non poteva mancare un ricordo di Fellini nell'anno della celebrazione del suo centenario. Lo facciamo con la verità sulla dolce vita di Giuseppe Pedersoli, che è la ricostruzione della tormentata e avventurosa realizzazione del capolavoro di Fellini, del quale credevamo di sapere tutto. Certezza erronea, contraddetta dal film di Pedersoli, che è il nipote di Giuseppe Amato, Peppino Amato, grazie al quale il film di Fellini poteva vedere la luce, e che ci stupisce in virtù di documenti inediti di prima mano, insieme con l'evocazione di un mondo, quello del cinema italiano degli anni 60, che purtroppo non esiste più. Del film di Andrea Segre, Molecole, si è già detto nei giorni scorsi, sarà proiettato in pre-apertura della mostra il primo settembre. Aggiungo soltanto che tra i molti film che ci sono arrivati, che sono stati girati durante il periodo di isolamento e dei lockdown, questo ci è sembrato forse il più bello, il più originale e intenso, perché non si limita a fare la cronaca di un momento particolare senza precedenti, ma mette in confronto due isolamenti. Quello di Venezia, svuotata dai turisti, è quello più intimo e personale del regista che riflette sul rapporto con il padre, ormai assente. Da un paese in pieno lockdown, che è il Brasile, invece, arriva un inquietante documento intitolato Narciso en Feria, una lunga e ininterrotta intervista al cantante Catano Veloso che ricostruisce i lunghi mesi della sua prigionia dopo l'arresto immotivato nel 1968 sotto la dittatura militare che mantiene il potere fino al 1984. È inutile aggiungere che il film risuona, purtroppo, di sinistri ecchi contemporanei. Di tutt'altro tono e atmosfera è invece il bellissimo ritratto che Carlo Verdelli ci offre di Paolo Conte in Paolo Conte via con me. Oltre alle numerosissime testimonianze di affetto e ammirazione che lo chansonnier italiano più famoso nel mondo ottiene, il film è caratterizzato dalla generosità con cui lo stesso Paolo Conte si concede alla macchina da presa, raccontando la sua avventura umana e professionale con una simpatia e un'ironia che sono forse una delle ragioni del suo immesso successo. E Paolo Conte ovviamente sarà... Giorgio Verdelli, scusate ho sbagliato. Paolo Conte sarà a Venezia per una serata speciale a lui dedicata venerdì 11 settembre. Il produttore Filippian Rimscha, che abbiamo conosciuto a Venezia due anni fa quando ci portò il restauro del film perduto di Orson Welles' The Other Side of the Wind, torna quest'anno con un altro sorprendente e inatteso regalo. La ricostruzione di una lunga e straordinaria intervista che Orson Welles realizzò con Dennis Hopper, mentre questi stava girando The Last Movie in Messico. Siamo all'inizio degli anni 70. Last Movie, come sapete, è il film maledetto di Dennis Hopper, designato a diventare un colossale in successo commerciale. Ma il colloquio tra i due, tra Welles e Dennis Hopper della durata originaria di sei ore, è stato ridotto meno di due con l'aiuto del montatore premio Oscar Bob Umuravsky e costituisce quindi un documento storico di grandissimo interesse. Ultimo dei film di non-fiction è City Hall di Fred Wiseman, un nuovo capitolo della sua appassionante indagine sulle istituzioni che sono alla base della società americana. Dopo l'Università di Berkeley e la Public Library di New York è il Boston City Hall, il municipio di Boston, l'oggetto della nuova esplorazione di un regista instancabile nonostante i suoi 90 anni, peraltro portati benissimo. E se credete di sapere tutto su come si affrontano i problemi di una città, che tra l'altro è la città in cui Wiseman è nato, allora aspettate di vedere come il sindaco di Boston si occupa per prima persona dei problemi di sicurezza, dei vigili del fuoco, della sanità, dei veterani, delle anziane, dei parcheggi e via l'encando. Il film di Wiseman è ancora una volta un'elezione di educazione civica senza precedenti e senza uguali. Passiamo adesso alla sezione dei film fuori concorso ma di finzione. Abbiamo già annunciato il film di apertura della mostra del cinema di Venezia, Laci di Lucchetti. Vi lascio quindi al piacere di scoprirne i meriti la sera del 2 settembre. Non avevamo ancora invece annunciato il film di chiusura che è Lasciami andare di Stefano Mordini, girato a Venezia nell'autunno scorso durante le settimane di Acqua Alta o Acqua Altissima, una delle acque più alte che la città ha dovuto subire negli ultimi decenni. Il film è un thriller psicologico con Valeria Golino, Stefano Accorsi, Maya Sansa e Serena Rossi che non nasconde le ascendenze che si rifanno all'atmosfera di un cult movie come Don't Look Now a Venezia è un dicembre a Rosso Shocking di Nicolas Reg. Fuori concorso è anche il film di Quentin Dupieux, un altro capitolo dell'edificio cinematografico che il regista francese sta costruendo all'insegna del surreale, del grottesco e dell'implausibilità totale con risultati quantomeno esilaranti. Come sapete, lo abbiamo già annunciato, il Leone d'Oro, uno dei due Leone d'Oro alla carriera di quest'anno va ad Han Hui, regista di origine cinese ma che ha sempre lavorato a Hong Kong. Il suo nuovo film si intitola Love After Love, è tratto da un romanzo ambientato negli ambienti dell'aristocrazia hongkonghese degli anni venti ed è un melodramma estremamente raffinato servito da attori bravissimi, bellissimi ed esaltato dalla stupenda fotografia di Christopher Doyle. Fuori concorso anche a San Dira di Salvatore Mereo. Vorrei dilungarmi un po' su questo film perché Mereo lo merita senza dubbio. Il suo quinto film, complicato dalle consueti vicende produttive che caratterizzano le produzioni dipendenti e in particolare i suoi lavori che sono caparbiamente autarchici e rigorosi, avrebbe meritato il concorso se avessimo potuto permetterci di mettere cinque film italiani in competizione. Mi auguro che questa collocazione non gli faccia mancare tutta l'attenzione che merita. Questo lavoro tratto dal romanzo omonimo di Guido Angioni ambientato in una Sardegna contemporanea in bilico fra il vecchio e il nuovo, fra il rigore fuori del tempo delle antiche tradizioni e la volgarità dei giorni nostri. Con una vicenda drammatica che rovescia i ruoli di padre e padrone e affida con una intuizione geniale il ruolo del protagonista del film proprio a Gavino Aledda, lo scrittore di padre e padrone. Insomma, un film da non perdere. Dall'Inghilterra arriva invece The Duke di Robert Mitchell, il regista di Notting Hill, che è una divertente e riuscita incursione nei territori tradizionali della commedia sociale inglese con spunti, se volete, un po' alla Ken Loach, ma senza il suo radicalismo politico. La storia vera è quella di un autista di taxi che negli anni Sessanta rubò un ritratto di Goya dalle National Gallery per motivi bizzari che non vi svelo ma che scoprirete vedendo il film, che è mirabilmente interpretato da Jim Broadbent e Helen Mirren. Dalla Corea giunge invece Night in Paradise, uno dei più bei gangster movie che ci sono giunti da quel paese negli ultimi anni. Il suo regista Park Hong-jung è un autore che merita di essere seguito attentamente perché si impone con prepotenza sulla folta schiera di artigiani che praticano questo genere molto diffuso in Corea, grazie a sceneggiature originali, alla capacità di costruire personaggi complessi e non stereotipati e a una regia di impressionante efficacia. Credo che ne sentiremo molto parlare in futuro di Park Hong-jung. Poco fa ho citato il nome di Philippian Rimshaw a proposito del documentario Hopper Wells. Bene, quest'anno Rimshaw, che è anche un regista, porta a Venezia il suo terzo film di finzione. Si intitola Mosquito State ed è un curiosissimo, inclassificabile lavoro che mescola elementi di generi diversi come la fantascienza e l'horror e in sottotesto una riflessione su temi contemporanei quali l'isolamento urbano, la malattia e il marciume dell'universo economico-finanziario curiosamente interconnessi. Ci sono tre proiezioni speciali fuori concorso. Trenta Monedas è il pilot di una serie prodotta da HBO Spagna e diretta da Alex de Iglesia. Elementi fantasy, horror e misteri si fondono in un racconto pieno di sorprese come spesso in questo regista con molta ironia sparsa a piene mani. Davvero molto godibile. Princess Europe di Camille Lottot è invece il film realizzato dalla corrobatrice storica di Bernard-Henri Lévy per documentare la tournée teatrale di grande successo che ha portato nelle principali capitali del mondo lo spettacolo scritto e interpretato dallo stesso filosofo francese. Il documentario sarà presentato in collaborazione con la città di Venezia in una proiezione speciale alla misericordia e seguito da una tavola rotonda sul tema dell'Europa i cui dettagli comunicheremo in seguito. L'ultimo film, l'ultima proiezione speciale fuori concorso è quello di Omelia Contadina il titolo di un cortometraggio che fa parte di una performance d'artista realizzata a quattro mani da Alicero Vacker e J.R il famoso artista francese che è una sorta di cerimonia funebre per celebrare il declino e la scomparsa del mondo contadino. Non aggiungo altro per non guastarvi la sorpresa. Passiamo adesso alla sezione Orizzonti prima però qualche considerazione non ci sono soltanto opere prime o registi poco noti quest'anno nel concorso di Orizzonti accanto a sei esordi la sezione ospita il ritorno di autori che si sono affermati proprio a Venezia con il loro primo film ma anche e soprattutto di registi che avevano partecipato al concorso principale con i lavori precedenti per esempio la coppia Massimo Danolfi e Martina Parenti il leone d'oro Love Diaz e poi Umberto Pasolini che ottenne il premio per la migliore regia propri a Orizzonti nel 2003 con Still Life sono dimostrazioni di fedeltà alla mostra e di rispetto per le sue scelte che non può che farci molto piacere come sapete di Orizzonti fa parte anche un concorso riservato a cortometraggi internazionali sono 12 titoli in competizione e due film fuori concorso potete vedere i titoli in questi due slide vi segnalo così l'esordio di Jasmine Trinca con un film che si chiama Being My Mom che è forse una delle sorprese di questa competizione peraltro di alto livello passiamo allora invece ai film di lungometraggio partendo dal film di apertura che verrà proiettato il 2 settembre si chiama Mila che in greco significa Apples è un regista greco Christos Nuku originale e in attesa variazione sul tema di un misterioso malessere che colpisce la popolazione privandola della memoria una sorta di pandemia particolare la Troasiem Guerre di Giovanni Alloi è invece l'opera prima realizzata in Francia dove Alloi risiede di un giovane autore italiano che era stato in concorso a Venezia con un suo cortometraggio nel 2015 è lo studio psicologico della pressione a cui è sottoposto un giovane militare assegnato alla sorveglianza antiterroristica nelle strade della capitale francese Milestone di Ivan Ayr arriva dall'India e segna il ritorno a Venezia del regista del film Sony che nel 2018 fesse piuttosto parlare di sé proprio a Venezia Orizzonti era il ritratto di una donna poliziotto che reagisce e surprise le violenze che sono sottoposte le donne nella società indiana anche questa storia di un camionista che ha perso la giovane moglie ha una forte componente sociale che conferma il talento di osservatore del giovane regista indiano ci sono due film iraniani in concorso a Venezia Orizzonti quest'anno il primo si intitola The Wasteland ed è l'esordio di Hamad Bahrami un primo film piuttosto insolito per il cinema iraniano girato in bianco e nero con rigorosi e ripetitivi movimenti di macchine orizzontali che scandiscono la circolarità narrativa del racconto ambientato in una fabbrica di mattoni in rovina nel mezzo del deserto con un padrone che non paga un capo a squadra sottomesso e un gruppo di lavoratori divisi da questioni etniche e religiose dalla Tunisia arriva invece il quarto film di Cauter Benagnat che era stato in giuria a Venezia nel 2018 il titolo del film è L'homme qui avendo sapeau ispirato a un autentico fatto di cronaca di qualche anno fa ed è la denuncia dell'ipocresia del mondo dell'arte contemporanea che fa da sfondo a una vicenda melodrammatica della ricerca di un amore perduto raccontata con un sorprendente smalto figurativo un esordio italiano in orizzonti quello del giovanissimo Pietro Castellitto che si è fatto notare di recente come attore in un paio di film e che esordisce invece con questo film che ha scritto, diretto e in parte interpretato un film assolutamente centrico rispetto al giovane cinema italiano di questi anni fatto di solito di minimalismo narrativo intimismo psicologico e una spruzzata di sociologia qui invece c'è cattiveria satira trovate sorprendenti il coraggio di usare anche rischiando di andare sopra le righe un esordio che mi sembra davvero molto curioso e promettente è un ritorno a Venezia anche quello di Gia Coppola la nipote di Francis dopo l'esordio di Compalo Alto nel 2013 che era in competizione a orizzonti con mainstream interpretato tra gli altri da Andrew Garfield Gia Coppola si misura con la deriva incontrollata generata dall'influenza dei social media sulla vita dei giovani di oggi mettendo in scena un eccentrico triangolo amoroso e il successo di un influencer che sfrunge al controllo dei tre a distanza di quattro anni dal leone d'oro vinto nel 2016 con The Woman Who Left torna a Venezia anche Love Diaz con Gino Spann un'altra storia di emarginati in un bianco e nero contrastato nelle cui vicende si legge in trasparenza un'aspera critica all'attuale regime filippino sotto la discussa guida del presidente Duterte è un esordiente anche il regista marocchino Ismael El-Iraki che con Zanka Contact racconta la storia della fuga impossibile di un musicista rock tossicodipendente e di una bellissima prostituta senza nascondere i suoi debiti nei confronti di Saylor e Lula il famoso film di Lynch e il cinema di Quentin Tarantino un altro film eccentrico e scatenato come sapete a Venezia siamo grandi estimatori di una copia di documentaristi milanesi Massimo Danolfi e Martina Parenti che nel 2016 parteciperanno in competizione con Spira Mirabilis dopo quattro anni tornano con un nuovo lavoro guerra e pace anche questo suddiviso in capitoli quattro per la precisione inattesi e sorprendenti come sempre mi fa piacere davvero che abbiano accettato di figurare in orizzonti senza pergiudizi di sorta per una stazione che a volte viene ingiustamente giudicata considerata di serie B La Nuit des Rois del regista ivoriano Philippe Lacotte invece aveva partecipato al Gap Financing Market film market di Venezia lo scorso anno il film inizia come un prison movie ma subito si trasforma in un grande omaggio a tutta la tradizione orale dell'intrattenimento africano griot, teatro, canti rituali danza e magia segnalo che tra l'altro si tratta dell'unico film dell'Africa subsahariana di quest'anno dall'Australia arriva invece un'altra opera prima si chiama The Furnace di Roderick McKay una sorta di western che racconta dell'epoca in cui i britannici trapentarono cammelieri afghani indiani e persiani nell'outback australiano un giovane cammeliere che ha fraternizzato con gli aborigini intraprende un viaggio rischioso con un avventuriero che ha rubato dei lingotti d'oro alla corona per fonderli presso la fornace del titolo l'altro film iraniano di orizzonti è Careless Time di Shahram Mokri terzo film di un registrat i più dotati e interessanti della nuova generazione di cineasti del paese i cui film d'esordio Fish and Cat fece impressione a Venezia nel 2013 dove vinse anche un premio per il miglior contenuto innovativo Careless Time persino più ambizioso di quello è ancora una volta un labirinto borghesiano in cui più piani narrativi al centro dei quali la storia di un attentato consumato in una sala cinematografica si confondono l'uno nell'altro e in cui la ripetizione è strumento di spiazzamento e confusione anziché rassicurazione Gaza Bonamur secondo film dei registi palestinesi Tarzan e Arab Nasser ha il merito secondo me tuttanto che secondario di affrontare le condizioni di vita e il desiderio di fuga di un giovane palestinese dalla striscia di Gaza con i toni leggere della commedia sociale senza ricorrere al consueto ornamentario del cinema di denuncia tra gli interpreti anche la più grande attrice palestinese che è Iam Abbas Selva Tragica è invece il quarto lungometraggio della giovane regista messicana Yulene Olaizola che si era fatta conoscere e apprezzare in vari festival internazionali con i suoi film precedenti Fogo per esempio era stato alla Kenzen di Cannes che sembra fosse interessata anche questo ultimo film prima di essere costretta a rinunciare alla sua selezione un film di sorprendente rigore formale e affascinante dimensione visiva sviluppato con il sostegno della Cine Fondation del Festival di Cannes dopo il successo di Still Life Uberto Pasolini ha impiegato ben sette anni per realizzare il suo nuovo film si intitola Nowhere Special è ispirato a una storia vera interpretato da James Norton nei panni di un padre che deve trovare una nuova famiglia per il figlio di tre anni quando scopre di avere pochi mesi di vita doloroso e intenso come tutti i film a cui Pasolini ci ha abituato Listen è il primo film di una giovanissima regista portoghese che viene dal London Film Institute di Londra a una roccia de Susa in 75 minuti ricostruisce con spietatezza chirurgica il dramma di due genitori immigrati portoghesi a Londra che si vedono sottrarre i due figli dall'assistenza sociale perché accusati di non poter provvedere al loro sostentamento i due però fanno di tutto per poterli recuperare con l'aiuto di un'avvocatessa che si occupa di diritti umani Jia Zhang uno dei più grandi registi contemporanei cinesi ben conosciuto dal pubblico di Venezia e non soltanto veneziano è invece il produttore del primo film di Jin Wang The Best is Yet to Come ispirandosi ai modelli del cinema americano sul giornalismo d'inchiesta ricostruisce le autentiche vicende di un giovane cronista poi divenuto famoso per aver denunciato l'ingiustizia di una legge del governo che proibiva di assumere individui che avevano contratto l'epatite B condannandoli alla disoccupazione e all'illegalità e all'illegalità il prolifico regista kazako Adilkan Yerzanov si è fatto conoscere nel circuito dei festival internazionale grazie ai suoi primi otto film due dei quali in sette negare di Cannes negli anni passati purtroppo nessuno di loro si è visto in Italia Yellow Cat è il suo nuovo film pieno di energie e stravaganti invenzioni nutrite di gusto cinefilo che gli permette di reinventare una comicità da slapstick nel paesaggio da western delle steppe del Kazakistan con bizzarri omaggi alla Nouvelle Vague francese a Jean-Pierre Melville e a Jean-Luc Godard si conclude così l'elenco dei film di Orizzonti e veniamo alla competizione principale il concorso di Venezia 77 sono grato a Carlos Reygadas che mi ha fatto conoscere questo secondo sorprendente film di finizione di un regista azerbaijano che si chiama Ilal Bajdarov noto dei circuiti e dei festival specializzati per alcuni documentari che sfuggono a ogni tentativo di catalogazione anche il suo secondo film di finzione che si intitola In Between Dying non assomiglia a nessuno dei film del cinema contemporaneo o mainstream è un film misterioso lirico poetico e struggente credo sarà per tutti un'autente sorpresa come è stata per noi quando lo abbiamo visto Le Sorelle Macaluso di Emma Dante è invece il secondo film della più importante regista italiana di opere teatrali e liriche che aveva esordito a Venezia nel 2012 con il suo primo film Via Castellana Bandiera il secondo è tratto da una pièce teatrale omonima da lei scritta e messa in scena dove si ritrovano tutti i temi cari della sua della sua poetica la famiglia la violenza dei legami di sangue la coralità il confine irrequieto tra vita e morte nel passaggio dalla scena teatrale al film la Dante reinventa il testo piegando le esigenze del linguaggio cinematografico con risultati che a me sembrano notevoli The World to Come secondo film di Mona Fastfold moglie collaboratrice del regista Brady Corbett è un film distribuito da Sony della storia di due donne che alla fine dell'ottocento vivono con i rispettivi mariti in case isolate a qualche miglio di distanza e che si innamorano l'una dell'altra il film ha una struttura temporale molto moderna che contrasta con l'ambientazione invece di fine secolo l'enfasi sui dettagli la fisicità del lavoro quotidiano del duro lavoro quotidiano femminile l'incompressione maschile rendono bene l'intenzione di alludere al presente pur raccontando una vicenda del passato un film statisticamente molto raffinato e molto bello Nuovo Orden di Michel Franco è invece un film proiettato nell'immediato futuro un film di fantascienza distopica durissimo e privo di speranza che risuona di rimandi evidenti e angoscianti alla situazione contemporanea di molti paesi governati da regimi totalitari anche quando pretendono di non esserlo in questo senso ci riguarda forse un po' tutti Michel Franco ha realizzato con questo il suo film più ambizioso e più cupo denso di colti riferimenti cinematografici e letterari come sapete come forse sapete molti dei film autori francesi di quest'anno sono stati rinviati all'anno prossimo uno dei pochi film invece che non ha deciso di rimandare l'uscita è il nuovo film di Nicole Garcia si intitola Amon è un thriller tratto da un testo teatrale scritto a quattro mani dalla stessa Nicole Garcia con Jean Fieschi interpretato da un trio di grandi attori Stacey Martin Bernard Machimel e Pierre Ninet che in Francia è una star in rapida scesa tutto ruota attorno a una donna che incontra il suo vecchio amante dopo che lui è scomparso e lei si è sposata nel frattempo con un ricco avvocato un triangolo sentimentale ovviamente molto pericoloso poiché siamo in un thriller Amos Guitai è uno dei registi più fedeli nel tempo a Venezia dove sono stati presentati tutti gli ultimi suoi film Laila in Haifa è stato interamente girato in un locale notturno con annesso una galleria d'arte contemporanea molto frequentato da israeliani e palestinesi nella città più aperta di Israele che è anche la città di nascita di Chittà e il nuovo capitolo forse uno dei più intensi riusciti di questa incessante riflessione che il regista israeliano si sforza ostinatamente ma anche dialetticamente di portare avanti dimostrando come si possono come possono convivere in uno stesso luogo due popoli insensatamente divisi dalla politica Andrei Konchalovsky è uno dei più grandi registi russi di una generazione che ha perso poco la volta tutti i suoi grandi maestri è stato quattro volte in concorso a Venezia vincendo per ben tre volte un leone d'argento ma ogni volta è capace di sorprendere ce lo farà anche questa volta con un film che si intitola Dear Comrades cari compagni che ricostruisce un episodio poco noto e molto controverso della storia sovietica in piena epoca Brezhnev il primo sciopero di una fabbrica di operaia a Novo Cercasca che protestavano per le dure e durissime condizioni di lavoro e la penuria dei generi alimentari represso nel sangue da cecchini istruiti dal KGB non era invece mai stato in concorso a Venezia uno dei più interessanti e prolifici registi giapponesi Kiyoshi Kurosawa e con piacere che accogliamo quest'anno alla mostra il suo ultimo lavoro si intitola Wife of a Spy un singolare melodramma di spionaggio ambientato alla vigilia della seconda guerra mondiale tra la città di Kobe e la Manciuria cinese occupata dall'esercito imperiale giapponese ricco di false piste inaspettati colpi di scena e inattesi rivelazioni che naturalmente non ho intenzione di anticipare anche per Majid Majidi si tratta di una prima volta in concorso a Venezia nonostante Majid sia un autore importante del cinema iraniano molto noto nel circuito dei festival internazionali Sun Children Korshid è il terzo film iraniano alla mostra di quest'anno un'opera a più livelli apparentemente indecisa fra un approccio realistico alle difficili condizioni di vita dei bambini di strada e un intreccio del cinema avventuroso anche se poi quello che prevale è il rimando alla lezione del Dickens di Oliver Twist segnalo perché ne vale veramente la pena l'incredibile bravura dei protagonisti adolescenti che è davvero fuori del comune Cornel Mondruccio è stato più volte a Cannes con i suoi film precedenti vincendo anche due premi nella sezione Un certain regard Pieces of a Woman è il suo primo film in concorso a Venezia è il suo primo film in lingua inglese girato negli Stati Uniti interpretato da famosi attori americani Vanessa Kirby che è anche la protagonista di The World to Come di Mona Fastwell anch'essa a Venezia Shia LaBeouf Ellen Burstyn e Molly Parker non svelo nulla del soggetto per non fare spoiler aggiungo solo che si tratta di un dramma familiare di rara potenza il secondo dei quattro film italiani in concorso è l'atteso Miss Marx di Susanna Niccarelli dopo il successo internazionale del precedente Nico che come ricorderete vinse come miglior film a orizzonti Susanna affronta un nuovo biopic girato in inglese e dedicato alla femmina minore di Marx una donna di intelligenza politica fuori dal comune e tra le prime della storia far conveggere le istanze femministe con il socialismo sono sicuro che dopo aver visto il film concorderete sul fatto che la Niccarelli si conferma come il nuovo grande talento del cinema italiano al femminile Carlo Noce è il terzo film italiano in concorso è il terzo film di Noce prodotto da Pierfrancesco Favino che lo interpreta anche nel ruolo a cui si riferisce il titolo Padre Nostro ispirato a fatti reali uno di quali è direttamente vissuto dalla famiglia del regista sono gli anni settanta contrassegnati dal terrorismo rosso visti attraverso gli occhi la fantasia di un bambino che scopre insieme la paura di un mondo adulto violento e la forza che deriva dall'amicizia per quanto strane siano le condizioni in cui questa si manifesta il film successivo è l'attesissimo nuovo lavoro di Gianfranco Rosi notturno frutto di due anni di esplorazioni in uno dei paesi più pericolosi del mondo la Siria dove si è combattuta una delle guerre più sanguinose assurde e atroce degli ultimi anni anche in questo caso non anticipo nulla se non per dire che non vi dovete aspettare immagini di combattimenti di cadaveri di distruzioni che peraltro abbondano nei reportage negli altri documentari da quel mondo sfigurato mentre Rosi si interessa piuttosto della devastazione lasciata negli individui da un conflitto atroce e disumano alzando ancora una volta l'asticella delle sue ambizioni estetiche nelle ricerche di un linguaggio cinematografico puro ed essenziale che trascende sia il documentario che la finzione dalla Polonia arriva un nuovo film di Malgorziata su Mosca forse la più importante regista polacca del momento già ad Orso d'Argente a Berlino due anni fa con Mag e poi in giuria a Venezia lo scorso anno codiretto con Michael Englert il film si intitola Never Gonna Snow Again un titolo emblematico come la misteriosa figura di massaggiatori in visita ai clienti di un assurdo compound di villette tutte uguali storie di esistenze insoddisfatte destinate forse a cambiare seguito degli incontri con il protagonista un po' come avveniva in Teorema di Pasolini Chaitanya Attamane porta invece dall'India il suo secondo film The Disciple molti si ricorderanno almeno mi auguro del suo film d'esordio folgorante si chiamava Kurt vinse a Venezia il premio come miglior film di orizzonti e Ione d'oro del futuro come miglior opera prima nel 2014 dopodiché Alfonso Cuaron lo ha preso con sé per la lavorazione di Roma facendoli da tutor per due anni nell'ambito del programma Rolex Mentor il suo nuovo film è un'opera ambiziosa e intransigente di grande rigore formale di incedere fascinoso e tragico una riflessione sull'arte e il fallimento nelle ricerche della perfezione assoluta una sfida al cui centro c'è la musica classica indiana ammagliata ipnotica trascendente minacciata dalla volgarità di un presente in cui non sembra esserci posto per la cultura tradizionale 40 anni dopo Anni di Piombo di Margaret von Trotto un altro film tedesco è un film di una donna affronta di petto la questione dei radicalismi politici nella Germania contemporanea And Tomorrow Then Entire World di Giulia von Heinz racconta di un gruppo di giovani aderenti al movimento Antifa che progetta di reagire con la violenza alle crescenti scorribande di gruppi neonazisti l'interrogativo è fino a che punto ci si può spingere pur di difendere la democrazia liberale il film segna il ritorno di un cinema politico appassionante e necessario dalla Bosnia arriva invece Kovádi Saida il nuovo film di Yasmila Banic Osso d'oro a Berlino nel 2006 per il suo primo film Il segreto di Esma nel 25esimo anniversario del genocidio di Serbenica dove più di 8000 musulmani bosnieci furono massacrati dalle truppe serbe al comando del generale Mladic Yasmila ricostruisce i terribili avvenimenti di quei giorni con una precisione chirurgica e un'intensità emotiva impressionante Siamo arrivati all'ultimo titolo della competizione di quest'anno lo abbiamo già non ci ha anticipato ieri con un comunicato stampa si chiama Nomadland di Chloe Zhao uno dei titoli più attesi del cinema americano del momento terzo film di una regista di origine cinese nata a Pechino ma che ha sempre lavorato negli Stati Uniti ed è la storia di un viaggio coraggioso e toccante dentro un mondo sconosciuto dai più di cui tutti credo ignoriamo l'esistenza quella dei nuovi nomadi negli Stati Uniti una guida alla sopravvivenza che acquista un significato particolare in questo periodo di isolamento causato dalla pandemia guidati dalla splendida interpretazione di Francis McDormand in un cast composto invece in prevalenza da persone autentiche che interpretano se stesse il film ci aiuta a scoprire come valori quali la solidarietà umana reciproca e il forte senso di comunità possono salvare dalla solitudine dal fallimento e dalla disperazione non stupisce che qualcuno abbia già inserito il film nella lista dei possibili contenders per gli Oscar di quest'anno finisce qui la lista dei film invitati è possibile è possibile lasciamo una porta aperta è possibile che nei prossimi giorni qualche titolo si aggiunga ancora all'elenco dei film invitati ho ancora un paio di comunicazioni da fare la prima riguarda il Venice Production Bridge il nostro mercato di coproduzioni la buona notizia è che la maggior parte delle sue molteplici attività si svolgerà come di consueto in loco al terzo piano dell'hotel Eccelsior soltanto Final Cut in Venice che è il programma speciale di sostegno alla post-produzione di film africani e arabi soltanto Final Cut in Venice e le proiezioni del mercato verranno invece spostate online sulla piattaforma di Festival Scope che da anni è il nostro partner per questo tipo di iniziative La seconda cosa riguarda invece la seconda annotazione riguarda invece la sezione Venice World Expanded che è giunta alla quarta edizione che quest'anno non si terrà come di consueto nella fascinante location dell'isola del Lazzaretto ma per ragioni facilmente immaginabili verrà invece spostato interamente online la lista di titoli invitati e le indicazioni per poter accedere alla piattaforma digitale che ospita i contenuti di questa nuova forma d'arte verranno comunicati nei prossimi giorni entro comunque la fine di questa settimana ricordo soltanto che la piattaforma online vede il sostegno di numerosi soggetti tra cui ATC Viveport di Taipei Oculus TV VRChat VR Room il vantaggio di trasferire questa edizione online risiede nel fatto che consentirà probabilmente un accesso ancora più ampio al pubblico e ai professionisti del settore senza bisogno di potersi di doversi esportare fisicamente a Venezia ma senza nel contempo dover subire alcuna limitazione nella fruizione dei contenuti visto che la visione dei VR è sempre comunque individuale e quindi tutto dipende semplicemente dalla qualità della tecnologia dei visori di cui si è dotati e non da una fruizione collettiva come nel caso dei film proiettati in una sala cinematografica ho finito anzi concludo con i ringraziamenti doverosi ringrazio naturalmente prima di tutto il presidente della biennale Roberto Cicutto il direttore generale Andrea del Mercato il direttore vicario responsabile dell'ASAC Deborah Rossi Paolo Rughi responsabile dell'ufficio stampa tutto il personale dell'ufficio cinema non posso non posso citare tutti i nomi sono troppi ma ricordo almeno Silvia Meregazzi Daniela Persi Alessandro Mezzalira Maria Caramanci Giulio Carbone e Valentina Bellomo gli altri mi scuseranno se non faccio i loro nomi ma sanno che hanno tutti la mia sincera gratitudine e poi naturalmente Pascal Diò Savina Neirotti Michel Reillac Liz Rosenthal e Jane Williams last but not least come dicono gli americani ringrazio la mia insostituibile assistente collaboratrice Angela Savoldi e i colleghi che hanno condiviso con me il piacere e talvolta la sofferenza della selezione di quest'anno Giulia Danielo Vallan Bruno Fornara Mauro Gervasini Oscar Riarussi Angela Prudenzi Emanuele Rauco e Marina Sanna voglio ringraziare anche Alessandra Speciale Gianluca Arnone Francesco Giaivia Angela Bosetto Mohameda Tebai Violetta Bava Paolo Bertolin Elena Pollacchi Piotr Cipotinic Juca Sacano Enrico Vannucci che sono stati i miei occhi e i miei ambasciatori in paesi nei quali non sono potuto recarmi di persona questa volta ho dovere concluso grazie a tutti di cuore vi aspettiamo a Venezia all'inizio di settembre